Sono molto felice di presentare questo libro qui che racconta la storia di Blandin Wagner, la filiastra di Richard Wagner, che è passato un inverno qui a Palermo, si è innamorato di un siciliano e si è sposato qui. Quindi questo libro racconta la Sicilia attraverso lo sguardo di una tedesca. Appunto una tedesca che si è innamorata della Sicilia, è un binomio non sempre molto attuale. Sì, si è innamorato, secondo me, più della Sicilia che di questo uomo e ha passato una buona parte della sua vita qua. I suoi figli sono nati qua e poi nel libro si racconta anche com'è finita questa storia d'amore molto insolita. Qual è la parte più bella, rilevante di questo libro? Secondo me è il momento dell'innamoramento, dell'arrivo qui in Sicilia, in questa terra piena di colori, di luci, di profumi che è così diversa dalla Germania. Quindi questo momento di incantesimo per me è stata la parte più emozionante del libro.